Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente tornati con un nuovo post partita della serie C o quantomeno della serie A contro la serie C siamo qui, a parte gli scherzi, con Lituania-Italia allora ma come cazzo se fa? ma come cazzo se fa? ma come cazzo se fa? a vincere solo 1-0 contro la Lituania che, per farvi capire, il portiere sentite bene gioca in una squadra in serie B non serie B italiana che allora va fa schifo però chi se ne fotte intanto qua aspettate azione super super modidi gioca nella seconda divisione belga non penso allora cos'è? il terzo portiere si ha altro che in pinsoio 4 minuti di recupero il terzo portiere cos'è? che gioca nel campionato dei lettanti Lituano 4 minuti di recupero l'Italia ha costruito però ragazzi abbiamo un problema che l'Italia costruisce tanto ma non concretizza mai abbiamo rischiato anche più di una volta di subire gol e quello vabbè una distrazione difensiva può capitare a tutti non mi incazzo per quello però però non dobbiamo permetterci di sbagliare tutto questo perché ok è una distrazione difensiva però prima o poi gli altri potrebbero concretizzarti e andarti a rete tu non concretizzi e stai alla a piagne e secondo me raga boh sono molto scettico perché l'Italia tutti può vincere l'europeo intanto qua è errore di un passaggio meno male che abbiamo coperto con toloi può andare a rinvio a donna roma allarghiamo per toloi cioè raga boh mi lascia molto scettico quest'Italia perché può vincere l'europeo sì ma se riesce a concretizzare perché se non riesce a concretizzare non vai da nessuna parte ma proprio manco dalla vicina sotto casa che vuole i limoni boh io sono molto scettico forza Italia però boh attacchiamo noi adesso telecroniamo un po' il pallone il super dribbling un tiro di poco fuori Mancini un po' si arrabbia con Federico Chiesa che sicuramente poteva fare un lavoro abbastanza migliore poi vedete anche la qualità migliorata io faccio così non so cosa sentirete voi qualità migliorata in teoria mamma mia siamo professionisti Lituania che cerca di difendersi pallone sarà fallo laterale in nostro favore mancano ormai due minuti quelli di recupero però ancora fallo in teoria è ue 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 a Lituani ma va tra fangulo in teoria è anche giallo no niente giallo sarà semplice calcio di punizione poi Immobile ragazzi ha giocato bene peccato per il gol fatto da Sensi poteva farne qualcuno almeno un gol come minimo potevano già stare sul 3-4-0 contro questa squadra si è mangiato un bel po' di gol il nostro Ciruzzo però dai siamo già contenti che abbia segnato un gol in nazionale dopo 25 decenni vediamo questa punizione come va a finire se va a finire male direi che possiamo anche salutarci attacchiamo il pallone dai 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 rigore rigore calcio di rigore dal disc no rigore ah calcio di rigore calcio di rigore calcio di calcio calcio di rigore calcio di rigore finalmente mamma mia e che ce voleva e che ce voleva per piace sto rigore giallo per Casulanas tutti i nas mamma mia c'è qualcuno lituano scrivo qua sotto nei commenti travolto barella dal giocatore lituano calcio di rigore dai che devo chiudere il video dai svegliatevi per favore si va dagli 11 metri c'è Capitan Ciruzzo no è Capitano sì mi ricordo che era Capitano ho un flashback io va Capitan Ciro e fa 2 a 0 niente bello c'è